Parliamo ora della squadra di hockey di Riva del Garda. Dopo la recente vittoria delle ragazze under 14, quest'ultimo weekend è stato la volta dei coetanei maschi impegnati nella Final 8 di Roma, dove è arrivato un onorevole quinto posto che comunque proietta la squadra rivana tra le prime in Italia. La Tevere Roma si è rivelata una spanna sopra tutte le altre formazioni in gara, mentre per i rivani la partecipazione ad un grande torneo onorato, vincendo al Cardiopalma la finale per il quinto posto contro il Genova. Grande soddisfazione per l'Hockey Club Riva, grazie ad un gruppo di ragazzi e ragazze di primissimo livello e ad una società molto unita e presente che stanno raccogliendo i frutti di un lavoro molto intenso. I prossimi appuntamenti dell'Hockey Club Riva, prima della pausa estiva, saranno il torneo internazionale Be Happy, che si disputerà dal 2 al 4 giugno al Centro Sportivo di Sant'Alessandro e la finale nazionale Under 12 maschile di Genova, in programma dal 16 al 18 giugno.